Ciao! Conosci le parole qualcosa, qualcuno, niente o nessuno? Oggi le vediamo insieme. Partiamo con alcuni esempi. Qualcosa bolle in pentola. È un modo di dire, nella lingua italiana, per dire che sta succedendo qualcosa. Qualcuno ha il cuore infranto. Significa che una persona soffre per amore. Permesso? C'è nessuno? Non vedo niente senza occhiali. Andiamo avanti con altri esempi e cerchiamo di capire meglio. Compra qualcosa. Il frigo è vuoto. Qualcosa è invariabile, quindi non cambia. Si usa per parlare di cose. Hai conosciuto qualcuno alla festa? Si usa solo al singolare. Si usa per parlare di persone e può essere maschile, qualcuno, o femminile, qualcuna. Oggi non ci sono per nessuno. Si usa solo al singolare. Si usa per parlare di persone. Non ho paura di niente. È invariabile, quindi non cambia e si usa per parlare di cose. Per oggi è tutto. Grazie mille. Alla prossima!